Oggi la ricetta più semplice del mondo però la ricetta che gradiamo veramente quando in quei momenti di che comincia il freddino, che vogliamo qualcosa di burroso, un po' grasso, ma però buono, però buono che cosa facciamo? Il purè di patate! Perché io lo so, io lo so, qualcuno di voi là compra quei fiocchetti, quella rubetta, la bustina non si fa, non si fa! Adesso il purè lo facciamo insieme come piace a me e come piacere anche a voi quindi, patate, prima di tutto le patate buone, guardate che belle schiacciapatate burro, noce moscata come me lo fa mamma mamma me lo fa con la noce moscata poi, parmigiano, reggiano, granapatano quello che abbiamo noi, che è buonissimo il parmigiano reggiano e il granapatano sono stupendi poi, il latte allora, sentite un po' non ne posso più vedere questa storia il latte wakate e te lo si dà, ma e te, no! latte intero, bello compriamo il latte di mucca o dobbiamo impararlo? bello, intero, buonissimo e qua lo già l'ho messo qui dentro nemmeno vi faccio pelare le patate patate tagliate a metà una volta bollite, ok? metto qui dentro, così schiaccio, tracchete, guarda che bello buccetta qua, via non vedete più bruciare le mani le volete bene? io pure a voi patate pronte, ancora sono calde, eccole qua via, qua poi, guardate qui qua c'è sta, ci sono le patate calde che patate usiamo? oh, patata qua ci vuole una patata bianca, ok? poi, latte vado così, quindi patate calde, latte caldo e poi il burro il burro, perché il burro ci vuole così, vado così ci vuole il burro perché deve essere burroso il purè così guardate, lo lavoro con la frusta, guardate che bello lo monto quasi perché abbiamo il grasso guardate che bello, guardate cosa sta prendendo vado così bello, così, guardate allora, quanto latte, qualcuno dirà quanto latte ci ha messo, quanto quanto lo volete lento, quanto lo volete duro sta a voi, a qualcuno piace più morbido e a qualcuno più duro, ok? quindi, adesso non metto il sale ancora, metto prima il parmigiano guardate, abbondante abbondante immaginate questo che chi può una grattatina proprio così, sottile, sottile, sottile di tartufo bianco morite proprio, è una cosa da urlo vado, guardate guardate che bello guardate che bello subito si monta poi, noce moscata appena un sentore e guardate, è liscio come che, è liscissimo, perché la patata è calda, il latte è caldo questo è il trucco, eh questo è il trucco adesso forchetta qua qua mi piace, proprio qua, così qua mi piace, così guardate, guardate guardate il purè una cosa stupenda sale un altro parmigiano che è abbondante un altro codino di latte perché queste sono ricette che si fanno in questa maniera non c'è una ricetta che stabilisce come e quando dipende da voi come ognuno a casa sua fa come gli pare vediamo un po', vediamo un pochino ecco qua e adesso andiamo così mo' è buono eh è fantastico una stupitaggine ma veramente fate felice così figli, nipoti, amici parenti mariti mogli tutti mi raccomando buon appetito e condividete non fategli questi tutto per me tutto per me non lo dico adesso ditelo ditelo ciao